Il caro biglietti per gli aliscafi per approdare alle oli è un problema non solo per i residenti ma anche per i turisti in vista del periodo estivo? Certamente che è un problema, tutti ci aspettavamo ma non alla fine della pandemia, sicuramente si pensava che ci potesse essere una ripresa alla grande del turismo, specialmente alle oli è zona internazionale di turismo. Questo aumento provoca una delusione nelle aspettative degli operatori turistici ma anche dei residenti. Non è concepibile che si facciano aumenti del 40-45% tutto in una volta, anche perché il governo nazionale ha stabilito delle forme di aiuto per quanto riguarda le imprese e quindi questi dovevano anche ripercuotersi nel non aumento di questi biglietti. Io ho fatto questo intervento e lo farò di nuovo in aula all'Assemblea regionale siciliana alla ripresa delle votazioni sulla finanziaria chiedendo al governo regionale di mitigare il più possibile l'aumento di questi biglietti intervenendo anche con la finanziaria regionale con fondi del bilancio o anche extra regionali. So che vi è un'iniziativa dell'assessore Falcone di oggi ma anche in Assemblea daremo un contributo perché il governo possa trovare soluzioni e affrontare questo grave problema che sicuramente creerebbe non pochi guai al turismo eoliano. La ripresa post pandemia in questa estate sarà importantissima per la Sicilia? Ma certamente perché dopo due anni di sacrifici, dopo due anni di poco turismo c'era e c'è da aspettarsi un turismo anche molto più all'avanguardia rispetto al passato e che possa consentire la ripresa economica anche degli operatori turistici oltre anche di tutti i locali locali che possono essere di tipo ristorante, bar, alberghi eccetera e quindi una ripresa anche nell'occupazione.